Poco tempo dopo, Charlotte, di ritorno a Diosbury Moor, fu desolata nell'apprendere che la sua amica E. si sarebbe probabilmente allontanata da quei luoghi per lungo tempo. 20 febbraio. Che cosa farò senza di te? Per quanto tempo saremo probabilmente separate? Perché deve esserci negata la reciproca compagnia. È una misteriosa fatalità. Anello di trovarmi con te perché mi sembra che due o tre giorni o settimane che siano trascorsi in tua compagnia mi fortificherebbero indicibilmente nel godimento di quei sentimenti che da così poco tempo ho incominciato ad avere cari. Tu sei la prima che mi ha indicato il cammino lungo il quale sto così fiaccamente tentando di procedere ed ecco che non posso ora averti a fianco. Devo procedere desolatamente sola. Oh, perché ci tocca di essere divise? Certamente è perché rischiamo di amarci troppo e di perdere di vista il creatore nell'idolatria verso la creatura. A tutta prima non sono stata capace di dire sia fatta la tua volontà. Mi sono ribellata pur sapendo che avevo torto di abbandonarmi a tale impulso. essendo rimasta sola per un momento questa mattina ho pregato ardentemente di essere capace di conformarmi a qualsiasi decreto emanato dalla divina volontà anche se mi fosse dato con una più severa mano di quella che oggi mi tocca in sorte. Con questa delusione da quel momento mi sono sentita più calma e più umile perciò più serena. Domenica scorsa presi in mano la Bibbia di umore cupo iniziai a leggere e subito si insinuò in me un sentimento quale non conoscevo da molti anni. Una sensazione soave, placida, che mi pervadeva solitamente quando ero una bimbetta e di domenica sera in estate me ne stavo vicino alla finestra aperta a leggere la vita di un certo nobiluomo francese che raggiunse un grado di santità più puro, più alto di quanto si sia mai visto dai giorni dei primi martiri. La residenza di E si trovava alla distanza di una normale passeggiata, tanto da Diosbury Moore quanto da Roheed. Nei pomeriggi di sabato E e Mary sollevano far visita a Charlotte e spesso insistevano perché le accompagnasse sulla strada del ritorno e si fermasse dall'una o dall'altra fino alla mattina del lunedì. Ma lei accettava raramente. Mary dice in tutto il tempo che rimase da Miss Waller fu ospite da noi solamente due o tre volte. Discutevamo di religione, di politica. Lei, Tori e figlia di un ecclesiastico, si trovava sempre in minoranze in casa sia dell'una che dell'altra famiglia saldamente ancorata al partito radicale e alla setta dissidente. Doveva ascoltare autorevolmente esposte tutte le tirate che l'ero solita fare al tempo della scuola contro l'aristocrazia dispotica, il clero anglicano mercenario, eccetera eccetera. Ora non aveva l'energia per difendersi. A volte ammetteva che vi era una certa verità in quanto le dicevamo, ma più spesso non replicava. La sua salute debole la induceva all'apparente condiscendenza, visto che non era capace di controbattere senza dare battaglia con tutte le sue forze. Lasciava che io la consigliassi e la proteggessi con grande imperiosità, a volte accettando una qualche briciola di senso comune presente in quanto andavo dicendo, tuttavia senza permettere a chi che sia di intaccare realmente la sua indipendenza di pensiero e di azione. Anche se a volte il suo silenzio poteva sembrare un consenso, ciò non fu mai il caso. Non espresse mai un'opinione per far piacere all'oppositore. Le sue parole erano oro puro, sia quando lo dava che quando biasimava. Il padre di Mary era un individuo di notevole intelligenza, ma animato da forti, per non dire violenti, pregiudizi in favore dei repubblicani e dei dissenzienti. Solamente la contea dello Yorkshire poteva aver dato vita a un simile uomo. Suo fratello era stato un esiliato in Francia e vi aveva poi preso stabile dimora. Mr. T stesso era stato spesse volte all'estero, sia per affari, sia per visitare le grandi pinacoteche del continente. Secondo quanto mi è stato detto, parlava il francese perfettamente quando l'occasione lo richiedeva, ma di solito si compiaceva di esprimersi nel pesantissimo dialetto dello Yorkshire. Comprava splendide incisioni dei quadri che ammirava particolarmente e la sua casa era piena di opere d'arte e di libri, ma gli piaceva presentarsi agli stranieri o a qualsiasi nuovo arrivato sotto suo aspetto più rozzo. Parlava con un caricatissimo accento locale, dichiarava il suo pensiero sulla chiesa d'Inghilterra e sullo Stato con le parole più guatte a urtare chi non la pensava come lui, ma se l'ascoltatore era in grado di sopportare quel primo urto, egli a poco a poco, suo malgrado, lasciava trasparire un cuore caldo, buono, e il suo reale buon gusto, la sua intima raffinatezza venivano allo scoperto. Educava i quattro maschi e le due figlie ai principi repubblicani, ne incoraggiava l'indipendenza di pensiero e di azione, non tollerava nessuna affettazione. Ora i membri di quella famiglia sono sparsi ai quattroventi. Marta, la minore, dorme nel cimitero protestante di Bruxelles, Mary vive in Nuova Zelanda, Mr. T è defunto. La vita e la morte hanno disperso quella cerchia di violenti radicali e dissenzienti nella quale era ammessa e sinceramente onorata e benvoluta la piccola, quieta, risoluta figlia di un ecclesiastico tradizionalista. Intanto, il gennaio e il febbraio del 1837 erano trascorsi e ancora non è raggiunta alcuna risposta da Southie. Probabilmente, perduto ogni speranza, Charlotte non l'aspettava più quando finalmente le giunsero le seguenti righe che troviamo incluse nella biografia scritta da Mr. C.C. Southie per tramandare la memoria del padre. Dopo averle spiegato che le rispondeva con tanto ritardo a causa di una lunga assenza da casa, durante la quale la corrispondenza a lui indirizzata si era accumulata, aggiungeva che la sua lettera era stata lasciata in fondo a molte altre, non per mancanza di rispetto verso di lei o per indifferenza per quanto comunicava, ma perché in verità non era compito facile rispondervi. Non era compito piacevole gettare una doccia fredda sulle alte aspirazioni e sui generosi entusiasmi della gioventù. Continuava poi, quello che lei è posso inferirlo solamente dalla sua lettera, che sembra scritta in tutta sincerità, anche se l'è intuisco firmata con uno pseudonimo. Sia come si sia, lettere e versi recano la stessa impronta dalla quale posso facilmente inferire le condizioni di spirito di chi ha scritto. Lei non chiede il mio consiglio sul come indirizzare le sue capacità, ma la mia opinione circa la loro qualità. Eppure l'opinione può avere poco valore e il consiglio invece averne molto. Lei evidentemente possiede, e non a basso livello, quello che Wordsworth definisce la facoltà del verso, che io non deprezzo quando dico che ai nostri tempi non è rara. Sono pubblicati ogni anno, senza tirare l'attenzione del pubblico, molti volumi di poesia che, se fossero usciti cent'anni fa, avrebbero procurato un'alta fama all'autore, mentre chiunque ha ambizioni in questo campo oggi deve essere preparato alla delusione. Non è vista, non è in vista del conseguimento di un successo che lei deve coltivare questo dono, se ha a cuore la sua felicità. Io che ho scelto la letteratura come professione, che le ho dedicato la vita e che non ho mai rimpianto, sia pure per un solo istante questa mia scelta, mi sento tuttavia costretto a mettere in guardia i giovani aspiranti scrittori che si rivolgono a me per consiglio e per incoraggiamento contro la scelta di questa così pericolosa carriera. Lei mi dirà che a una donna non occorre raccomandare la prudenza, visto che non può incontrare pericoli lungo una simile via. Fino a un certo punto ciò è vero, ma vi è un pericolo di cui vorrei metterla in guardia con tutta la gentilezza e tutto il calore di cui sono capace. I sogni a occhi aperti e quali lei si abbandona abitualmente sono capaci di fuorviarla e quanto più le attività quotidiane richieste al suo sesso le sembrano piatte e prive di profitto, quanto più lei sarà indotta ad abbandonarsi alla fantasticheria e diventerà incapace di qualsiasi altra cosa. La letteratura non può essere impegno femminile, non lo dovrebbe essere. Intenta a disimpegnare i doveri del suo stato non potrà dedicarsi allo scrivere anche solo come evasione passatempo, a quei doveri imprescindibili lei non è stata ancora chiamata, quando lo sarà desidererà con meno ardore la celebrità, non andrà alla ricerca di emozioni fantastiche, le vicissitudini della vita dalle quali non deve sperare di essere risparmiata, qualsiasi siano le condizioni in cui la affronterà, gliene offriranno fin troppe. Non pensi che io faccia poco caso del dono che lei possiede né che voglia scoraggiarla dall'esercitarlo, semplicemente la esorto a riflettere e a usarlo in modo da farne un elemento di permanente benessere. Scriva in poesia per amore della poesia, senza essere spinta dall'emulazione né dalla prospettiva di raggiungere la celebrità, quanto meno vi mirerà, tanto più avrà la possibilità di ottenerla. Scrivere in questo stato di spirito è salutare per il cuore e per l'anima, si può farne subito dopo la pratica religiosa il più sicuro mezzo per elevare e calmare la mente. Può dar forma ai suoi migliori pensieri, ai suoi sentimenti più saggi e così facendo disciplinarli, irrobustirli. Auguri signora, non è perché ho dimenticato che un tempo fui giovane anch'io che le scrivo con questo tono, ma proprio all'opposto è perché me ne ricordo. Lei non deve mettere in dubbio nella mia sincerità, nella mia buona volontà e per quanto male si accordino le mie parole col suo attuale punto di vista e la sua presente disposizione di spirito, quanto più a lungo vivrà, tanto più le sembreranno ragionevoli. Benché lei mi possa considerare un consigliere privo di grazia, vorrà concedermi tuttavia di firmarmi, coi migliori auguri di felicità in questo mondo e nell'altro, suo sinceramente amico Robert Southie. Mi trovo con Miss Bronte quando ricevette la lettera in cui Mr. Cathbert Southie le chiedeva il permesso di inserire quella qui sopra riportata nella biografia del padre che stava scrivendo. Lettala mi disse, quella lettera di Mr. Southie era gentile e ammirevole alquanto severa forse, ma mi fece bene. E in parte perché anch'io la trovo ammirevole, in parte perché contribuisce a mettere in risalto il carattere di lei, quale risulta dalla risposta che gli inviò, che ho preso la libertà di riportarne un estratto. Ecco la risposta. 16 marzo. Non posso trovare riposo prima di aver risposto alla sua lettera, anche se rivolgendomi a lei una seconda volta potrò sembrarle alquanto ostinata, ma devo ringraziarla per il saggio consiglio che lei ha avuto la condiscendenza di darmi. Non mi ero avventurata a sperare in una risposta come la sua, così tanta considerazione nel tono, tanta nobiltà nello spirito. Devo moderare i miei sentimenti o lei mi sospetterà di essere stoltamente entusiasta. Alla prima scorsa data la sua lettera provai solamente vergogna e rimorso per essermi avventurata a disturbarla con la mia rozza rapsodia. Sentii salirmi al viso un penoso, ardente, rossore, al pensiero dei fogli di carta che avevo coperto, con parole che allora mi avevano dato tanta felicità e che adesso erano solamente fonte di confusione. Ma dopo aver riflettuto alquanto, e letto e riletto le sue righe, la prospettiva sembra rischiararsi. Lei non mi dice che quanto ho scritto è totalmente privo di meriti. Non mi proibisce di scrivere, mi mette semplicemente in guardia contro la follia di trascurare doveri tangibili e di abbandonarmi alla soddisfazione di piaceri immaginari. Contro lo scrivere per desiderio di fama, per l'egoistica eccitazione dell'emulazione, mi permette gentilmente di scrivere poesie per amore della poesia purché per dedicarmi a quest'unica assorbente soddisfazione non tralasci nulla di quanto il dovere richiede da me. Temo signore che lei mi consideri assai stolta. So che quanto le scrissi nella mia prima lettera era tutta roba senza valore, stolta da capo a fondo, ma non sono in realtà la creatura completamente oziosa e sognante che sembra rivelare. Mio padre è un ecclesiastico che gode di un reddito limitato ma sufficiente. Sono la maggiore delle sue figlie, ha speso per la mia istruzione tanto quanto in buona giustizia può destinare anche a quella degli altri. Quando ho lasciato la scuola ho dunque pensato che era mio dovere cercare un posto di istitutrice. In questa occupazione ho trovato di che occupare i miei pensieri durante la giornata e insieme con la mente anche le mani senza riservare i sogni all'immaginazione nemmeno un istante. Di sera lo ammetto, penso, ma non infastidisco mai gli altri con i miei pensieri. Evito con cura di sembrare preoccupata o eccentrica per non indurre in chi mi circonda congetture sulla natura dei miei segreti interessi. Seguendo la guida di mio padre che fin da quando ero bambina mi ha consigliato esattamente come l'ho fatto lei nella sua saggia e amichevole lettera mi sono non solo sforzata di essere attentamente fedele a tutti i doveri riservati a una donna ma anche di prendervi il più profondo interesse. Non vi riesco sempre, alcune volte mentre insegno o cucio mi prende il desiderio di leggere o scrivere ma so controllarmi e l'approvazione di mio padre mi compensa largamente della privazione che mi impongo. Ancora una volta mi permetta di ringraziarla con sincera riconoscenza. Confido di non essere mai più tentata di vedere il mio nome stampato. Se il desiderio risorgesse leggerei nuovamente la lettera di Southie e lo reprimerei. È sufficiente onore per me l'avergli scritto e averne ricevuto una risposta. Quella lettera è sacra. Nessuno dovrà mai vederla all'infuori di papà, delle mie sorelle e di mio fratello. Una volta di più la ringrazio. Questo fatto, suppongo, non si rinnoverà. Se vivrò fino alla vecchiaia lo ricorderò da qui a 30 anni come un sogno luminoso. La firma che lei suppone apocrifa è il mio vero nome. Nuovamente, dunque, devo firmarmi Charlotte Bronte. P.S. Per favore, signore, mi scusi per averle scritto una seconda volta. Non me lo sono potuta impedire, in parte per dirle quanto le sono grata della sua delicata gentilezza e in parte informarla che i suoi consigli non saranno sprecati, per quanto dolorosamente e con riluttanza saranno prima di tutto seguiti. Charlotte Bronte. Non so negarmi la soddisfazione di inserire la risposta di Southie. Keswick, 22 marzo 1837. Cara signora, la sua lettera mi ha procurato un grande piacere e non mi perdonerei se glielo tacessi. Lei ha accolto un ammonimento con tanta considerazione e gentilezza quanta era quella cui era improntato. Mi permetta ora di chiederle di lasciarsi vedere da me se mai dovesse venire a questi laghi mentre vi ho la mia residenza. In seguito lei penserà a me con maggiore simpatia perché si sarà resa conto che non vi è né severità né musoneria nello stato mentale cui gli anni e l'osservazione mi hanno indotto. Per grazia di Dio c'è possibile raggiungere quel grado di autogoverno necessario alla felicità nostra e capace di contribuire grandemente a quella di chi ci circonda. Si guardi dall'eccessiva eccitazione e si sforzi di conservare quieta la mente anche dal punto di vista della salute è il miglior consiglio che le possa dare. Il progresso morale e spirituale andrà allora di pari passo con la cultura delle sue doti intellettuali. Ed ora signora Dio la benedica a Dio e mi creda suo amico sincero Robert Southie. Mi parlò anche di questa seconda lettera dicendomi che conteneva un invito a recarsi dal poeta se mai fosse andata nella regione dei laghi. Non vi era denaro sufficiente disse né avevo alcuna prospettiva di guadagnare abbastanza da concedermi un così grande piacere così rinunciai a pensarvi. Mentre ne parlavamo eravamo appunto sui laghi ma Southie era morto. Aggiungo come devana che questo signore ha consigliato di smettere di scrivere Charlotte Bronte. Quella lettera stringente la indusse a mettere da parte per il momento qualsiasi idea di tentare l'avventura letteraria indirizzò tutta l'energia al disimpegno dei suoi doveri ma quelle occupazioni non erano alimento sufficiente per le grandi forze del suo intelletto che perpetuamente le ponevano delle richieste mentre l'aria immobile quasi stagnante di Dewsbury Moor le intaccava la salute e lo spirito sempre più profondamente. Il 20 agosto 1837 scrive sono nuovamente a Dewsbury intenta al solito lavoro insegnare 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 quando tornerai a casa affrettati sei stata a Bath abbastanza a lungo ormai avrai acquistato belle maniere sufficienti ne sono certa se la vernice diventerà più spessa temo che il buon legno di fondo rimanga completamente nascosto e i tuoi amici dello Yorkshire non lo sopporteranno vieni vieni la tua assenza incomincia a stancarmi veramente i sabati si succedono uno dopo l'altro senza che io possa sperare di udir bussare alla porta e poi sentirmi dire c'è miss e oh misera me in questa mia vita monotona quello era un evento piacevole desidero che si rinnovi ma ci vorranno due o tre incontri prima che l'irrigidimento estraniante di questa lunga separazione si dilegui a poco a poco verso la stessa epoca essendosi dimenticata di restituire una borsa da lavoro che aveva preso in prestito dice queste aberrazioni della memoria mi avvisano chiaramente che sto uscendo dalla prima gioventù età 21 anni lo stesso tono di disanimo pervade quest'altra lettera ho un estremo desiderio di venire da te prima di natale ma non mi è possibile debbono passare altre tre settimane prima che mi sia dato di vedere sotto il mio tetto la mia confortatrice o se potessi vivere sempre con te e leggere insieme la bibbia ogni giorno se le nostre labbra potessero bere contemporaneamente la stessa bevanda scaturita dalla medesima pura fonte di misericordia confido spero che un giorno potrei diventare migliore assai migliore di quanto ora mi consentano i miei cattivi e distratti pensieri il mio cuore corrotto freddo al richiamo dello spirito pronto ad accendersi a quello della carne spesso mi prospetto la piacevole vita che potremmo condurre insieme fortificandoci a vicenda nel sacrificio per far risplendere quella devozione che i primi santi del signore spesso raggiunsero gli occhi mi si riempiono di lacrime quando metto a confronto la beatitudine di una simile condizione rischiarata da speranze per l'avvenire con lo stato di depressione in cui vivo ora insicura di aver mai sentita una vera contrizione debole in pensiero in azione bramando la santità che mai mai raggiungerò colpita a volte fino in fondo al cuore dalla convinzione che le orribili spaventose dottrine calviniste sono vere a farla breve immersa nelle tenebre della morte spirituale se la perfezione cristiana è necessaria per meritare la salvezza eterna io non sarò mai salva il mio cuore è una vera e propria serra per i pensieri peccaminosi quando decido la scelta di un comportamento non ricordo quasi mai di rivolgere lo sguardo verso il redentore per averne guida non so pregare non riesco a piegare la mia vita il grande fine del bene cerco costantemente quel che mi piace perseguo la soddisfazione di quanto desidero personalmente dimentico dio e non dovrebbe dio dimenticare me e allo stesso tempo conosco la grandezza di geova riconosco la perfezione della sua parola adoro la purezza della fede cristiana la teoria che faccio mia è giusta la pratica a cui mi abbandono è orribilmente errata le vacanze di natale giunsero e charlotte hanno tornarono alla canonica e in quel felice circolo domestico nel quale la loro indole si manifestava in piena libertà in mezzo agli estranei si chiudevano in sé in verità solamente una o due persone estrane potevano essere ammesse fra le sorelle senza che quanto sopra si verificasse emily and erano legate vita e interessi come se fossero gemelle la prima per estremo riservo la seconda per timidezza si sottraeva a qualsiasi amicizia a qualsiasi intimità all'infuori di quella delle sorelle emily era impervia a qualsiasi influenza non veniva mai a contatto con l'opinione altrui unica legge di condotta era per lei quanto le sembrava giusto e conveniente e si regolava di conseguenza non accettando alcuna interferenza riservava il meglio del suo amore a dan mentre quello di charlotte andava prima di tutto a lei tuttavia l'amore reciproco delle tre sorelle rattetragono alla vita e alla morte ogni qualvolta poteva recarsi da loro e veniva accolta con slancio da charlotte liberamente accettata da emily ricevuta da anne con gentilezza quel natale avrebbe dovuto trascorrere a howarth alcuni giorni ma la sua venuta dovette essere procrastinata a motivo di un piccolo incidente domestico esposto nella lettera che segue 29 dicembre 1837 sono sicura che mi avrai accusata di trascuratezza per non averti scritto prima d'ora la lunga lettera promessa invece ho una triste e sufficiente scusa nell'incidente occorso alla nostra fedele vecchia tabby pochi giorni or sono dopo il mio arrivo a casa andando al villaggio per fare compri il piede le scivolò sulla ripida discesa ghiacciata e cadde era buio e a tutta prima nessuno si accorse dell'incidente poi i suoi gemiti attrassero l'attenzione fu sollevata e portata nella vicina farmacia dove le esaminarono e si resero conto che si era lussata e fratturata una gamba disgraziatamente la frattura fu ridotta solamente la mattina dopo alle 6 perché prima di quell'ora non potevamo trovare alcun chirurgo disponibile ora è qui da noi costretta a letto e con prognosi riservata naturalmente siamo estremamente in ansia per lei poiché è come una di famiglia dal momento dell'accaduto siamo rimaste quasi completamente prive di aiuto una donna viene saltuariamente per fare i lavori più pesanti ma finora non siamo riusciti a trovare una domestica fissa e perciò le faccende di casa oltre all'assistenza di tabby ricadono su di noi date le circostanze non oso insistere per averti qui almeno finché non sarà dichiarata fuori pericolo sarebbe troppo egoismo da parte mia la zia voleva che ti informassi dell'accaduto fin dal primo momento ma papà e tutti gli altri hanno insistito affinché rimandassi nella speranza che le cose prendessero una piega migliore e io ho aspettato di giorno in giorno riluttante a rinunziare a un piacere pregustato in anticipo così a lungo tuttavia ricordando quanto mi dicesti in proposito che tu affidavi ogni cosa a una decisione più alta della nostra cui ti saresti sottomessa di buon grado considero mio dovere piegare il capo anch'io e tacere può darsi che sia per il meglio penso che se tu fossi venuta qui durante questo duro inverno la tua visita non sarebbe stata di nessun vantaggio per te la brughiera è bloccata dalla neve perciò non avresti nemmeno potuto uscire dopo questa delusione non oserò mai più contare sul conseguimento di un piacere sembra che una fatalità si sia frapposta fra teme non sono abbastanza buona per te e tu devi essere tenuta lontana dal contagio di un'intimità troppo stretta insisterei ancora per avere una tua visita supplicherei e ostinerei ma mi viene in mente che tabby potrebbe morire durante la tua visita e io non mi perdonerei mai di importi una simile prova no ciò non deve essere e in mille modi questa realtà mi mortifica e mi delude pungentissimamente e non sono la sola ad essere delusa tutti in casa attendevano la tua visita con impazienza papà dice che approva pienamente la mia amicizia con te e desidera che possa accompagnarmi per tutta la vita una buona vicina delle bronte una donna capace e intelligente che gestisce una farmacia a howarth e grazie a questa occupazione all'esperienza e un grandissimo acume fa da dottoressa e da infermiera nel villaggio e come tale è stata una presenza amica in molte case del vicinato visitate dalla malattia e dalla morte mi ha messa al corrente di un particolare a proposito della gamba fratturata di tabby mister bronte era pieno di considerazione e di generosità nel venire incontro a qualsiasi richiesta giustificata tabby viveva in casa sua da 10 o 12 anni ed era come diceva charlotte una di loro ma d'altra parte essendo più vicina ai 70 che ai 60 non era più in condizione di prestare un utile servizio già al momento dell'incidente aveva una sorella che viveva a howarth e i risparmi accumulati durante molti anni di servizio costituivano un vero capitale per una persona del suo livello sociale in tempo di malattia la canonica avrebbe provveduto miss brownwell la prudente per non dire ansiosa zia prendeva in considerazione queste cose conosceva il modesto contenuto della borsa di mister bronte sapeva quanto fosse insicuro l'avvenire finanziario delle nipoti le vedeva perdere il necessario periodo di riposo concesso da quelle vacanze tutte prese dalle cure prestate a tabby fece presente con insistenza la situazione a mister bronte appena l'imminente pericolo di vita della vecchia domestica fu passato a tutta prima egli rifiutò di prestare orecchio al prudente consiglio accoglierlo ripugnava la sua natura generosa ma miss brownwell perseverò insistendo sulla situazione economica fece pressione sul suo amore per le figlie e finalmente lo fece cedere tabby doveva essere trasferita presso la sorella e lì assistita e curata mister bronte sarebbe intervenuto quando le economie di lei fossero esaurite la decisione fu comunicata alle ragazze e in quel pomeriggio invernale entro le quiete mura della canonica di howarth si manifestò una tranquilla ostinata ribellione fecero una unanime rigida dichiarazione tabby si era presa cura di loro quando erano bambine nessun altro all'infuori di loro si sarebbe preso cura di lei nella sua vecchiaia e infermità all'ora del tè sedettero quiete e silenziosa il pasto fu consumato senza che le tre sorelle lo toccassero la cosa si ripete l'indomani mattina alla prima colazione non sprecarono molte parole ma le poche che pronunciarono ebbero il loro peso continuarono lo sciopero della fame finché la sentenza fu abrogata e a tabby ormai invalida impotente completamente dipendente dal loro aiuto fu concesso di rimanere definitivamente alla canonica in questa circostanza agì chiaramente in charlotte quel forte sentimento del dovere che costituiva la pietra angolare del suo carattere e ne dominava la naturale inclinazione al piacere sappiamo quanto agognasse alla compagnia dell'amica ma per poterla godere avrebbe dovuto tirarsi indietro da quanto considerava suo dovere cosa che non fece mai per quanto grave fosse il sacrificio da affrontare grazie a tutti